bene buonasera visione roma questa sera realizza uno degli incontri con gli autori questa collana di incontri con gli autori di libri che ci sembrano interessanti con me c'è benedetta tamburini e ringrazio andrea cadizzone che ha accettato di stare con noi a presentare il suo libro il suo libro è le sindache d'italia viaggio nella storia delle amministratrici italiane libro scritto insieme a michela ponzani come facciamo sempre invitiamo tutti a comprarlo questo libro nel nostro sito c'è il link per comprarlo anche via mail ovviamente noi non c'entriamo niente con la casa ed dice che lo vende però siamo molto felici di invitare a leggerlo e con benedetta poi faremo dei commenti ma adesso io do subito la parola ad andrea catizzone che ce ne parlerà ce lo illustrerà dirà anche le ragioni per cui ha sentito la necessità abbastanza evidenti visto anche le cose di cui si occupa andrea troverete anche questo sul sul sito il suo curriculum ma sarà lei stessa come facciamo sempre a presentarsi a te andrea allora intanto grazie per questo graditissimo invito grazie a visione roma grazie anche benedetta tutti gli organizzatori di questi importanti e incontri che servono comunque a conoscerci e a conoscere di più il libro nasce dentro un progetto del dipartimento pari opportunità delle autonomie locali italiane dipartimento che ho la diciamo l'onore di di aver fondato e dire che attualmente dirigo e che appunto ha lo scopo di di analizzare di mettere in rete di fare anche attività di ricerca e sollecitazione sul piano delle politiche che vengono svolte nelle varie amministrazioni locali in particolar modo per la realizzazione del principio costituzionale delle pari opportunità sono una giurista ovviamente sono un'avvocata e quindi mi occupo della del temi di legge di di diritto da sempre e dunque abbiamo ritenuto in seguito una ricerca svolta dal dipartimento di approfondire questo tema anche perché la ricerca che abbiamo fatto sulla percezione nel territorio nazionale con 5.000 interviste fatte tra amministratori e distribuite tra amministratori e cittadine e cittadine abbiamo così rilevato che intanto il senso del principio delle pari opportunità non è compreso nella sua totale espansione spesso viene solo indagato un aspetto quindi rapporto tra i due sessi quindi quanto la presenza delle donne si ci sia o quanto non ci sia meglio per meglio dire ma poi non è completamente conosciuta e non sempre sono anche conosciute le le azioni le attività politiche che vengono svolte amministrative che vengono svolte in questo senso soprattutto quello che ci è allarmato è che il numero delle amministratrici soprattutto a livello apicale quindi parlo delle delle sindache in particolar modo è molto basso in italia solo il 15 per cento del dei sindaci sul totale dei sindaci è rivestito da donne un ruolo rivestito da donne e nelle grandi città solo due donne attualmente noi parliamo di roma quindi non vi dico niente di nuovo una delle città delle poche città grandi città che italiane governate da donne sono solo due fondamentalmente sono roma e torino io sono torinese anche quindi e vivo a roma quindi ho diciamo l'esperienza di entrambe le due sindache donne ovviamente il nostro non è un libro politico chiaramente quindi non ha nel senso che non è politico l'amministrazione è politica chiaramente però noi non diamo un giudizio di valore sull'azione politica svolta dagli amministratrici insomma questa questo dato ci è servito per andare anche a studiare poi appunto io ho una vocazione anche di studio per cui ho cercato di appena assunto l'incarico di questo dipartimento di analizzare la storia delle amministratrici devo dirvi che non ho trovato nulla perché non c'è una letteratura in questo senso per cui le sindache d'italia è il primo libro che racconta la storia delle amministratrici italiane e quindi delle sindache inoltre la prima volta che le donne esercitarono il diritto di voto fu nelle amministrative del 1946 e non nel referendum come erroneamente spesso si riporta in quella tornata elettorale del 1946 furono dieci le sindache elette ovviamente non c'era l'elezione diretta intervenne molti anni molti anni dopo però in questa prima tornata elettorale ci fu la presenza di queste dieci donne sindache che svolsero un ruolo particolarmente importante quindi il libro inizia dal 1946 e racconta la storia e qui è l'intervento anche di michela ponzani come storica abbiamo voluto unire le due competenze la giurista che sono io e la storica che michela per costruire anche in maniera un po più scientifica anche se un libro più divulgativo rispetto a questa a questa vicenda che appunto non era mai stata raccontata quindi la specificità di questo libro è che racconta ciò che non era mai stato riscontrato e perché è importante raccontare questa storia aggiungo ancora che accanto a queste dieci prime sindache del 1946 ci sono altre 16 schede che riguardano appunto l'attività e l'azione delle sindache ovviamente successivi nei periodi successivi quindi fino ad arrivare all'attualità abbiamo le schede diciamo raccolto facendo ovviamente una selezione cercando di individuare le sindache donne che per la prima volta hanno rivestito questo ruolo nella città quindi la prima sindaca donna di milano e qui abbiamo appunto la letizia moratti la prima sindaca donna di di lecce per esempio abbiamo la adriana polibortone la prima sindaca di napoli rosarusso iervolino quindi tutte le e poi via via discorrendo fino ad arrivare ai giorni nostri quindi abbiamo anche la la sindaca pendino e la sindaca di torino e la sindaca raggi diciamo la cosa che poi non so quando mi interrompo perché io parlo è quindi datemi voi il ritmo del del ritmo dei tempi perché fu importante nel 1946 questa presenza intanto l'italia veniva dal dopoguerra del periodo fascista dove la negazione dei diritti era stata le it motivi soprattutto per quanto riguarda le donne era stato proprio uno del diciamo delle azioni fondamentali di quella di quella ideologia nefasta e nel periodo di ricostruzione del nostro paese quindi in tutta la resistenza le donne avevano già iniziato a giocare un ruolo di primo ordine quindi le non ci dimentichiamo le staffette partigiane quanta importanza ebbero che ruolo fondamentale svolsero nella nella lotta di liberazione quindi le donne avevano già sperimentato un loro protagonismo che era era inedito e per per la prima volta e faceva in un certo senso uscire da una vita prettamente privata famigliare dove il ruolo della donna era stato relegato nel corso delle degli anni e l'aveva con se aveva consentito a molte donne di poter mettersi a disposizione mettere a disposizione le proprie capacità le proprie conoscenze nell'ambito della 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 vita pubblica e della vita istituzionale per la nascente per la costruzione della nascente democrazia alcune delle sindache del del 1946 furono anche donne della della costituente quindi furono elette poi anche in assemblea costituente e spesso nella storia di queste sindache in generale del 46 anche quelle successive si intrecciano molto delle esperienze a livello nazionale una formazione anche livello nazionale poi spesa a livello amministrativo e locale anche poi europeo durante la guerra anche le donne avevano gestito molte avevano gestito avevano amministrato molte delle delle della vita diciamo familiare le famiglie erano delle piccole società più grandi piccole tre virgolette insomma piccole rispetto adesso erano molto grandi erano famiglie molto importanti dove il ruolo della donna era fondamentale anche perché durante la guerra il marito di solito andava appunto era andato a combattere e per le più fortunati era per le famiglie più fortunate era rientrato per le famiglie meno fortunate no quindi c'erano state c'era guerra aveva creato uno sconvolgimento anche nell'ambito familiare quando si studia la storia delle donne ovviamente bisogna ovviamente guardare a quello che succedeva anche in ambito privatistico e familiare perché quella poi diciamo quell'evoluzione quella emancipazione da quella condizione della della donna la quale neanche le madri costituenti la costituzione è piena ancora di questo principio vogliono rinunciare ma perché fu così importante ancora non solo per le politiche in generale per le la qualità delle azioni che le prime sindache del 46 misero in atto ma perché la presenza delle donne già appunto dalla resistenza fino poi alla l'italia repubblicana e democratica si accompagnò anche ad un grande processo di alfabetizzazione del paese l'italia appunto del 46 era un'italia distrutta distrutta non solo per le ragioni appena indicate quindi di una sfarinamento del nucleo familiare ma era anche un'italia molto povera non aveva delle risorse non aveva appunto la possibilità non c'erano appunto le le condizioni economiche che poi si svilupparono successivamente ma soprattutto bisognava far capire l'importanza del diritto di voto che per la prima volta nel 46 era stato riconosciuto alle donne inizialmente il decreto regio consentì solo il diritto di voto attivo quindi solo non si potevano candidare poi per fortuna poi ci fu una correzione quindi le donne poterono anche per fortuna essere candidate e quindi anche fu riconosciuto il diritto di voto sia attivo che passivo e quindi in questo processo in questo grandissimo processo di alfabetizzazione e di ricostruzione di una nazione in diritto si chiama nazione che è l'insieme delle persone della cultura che lega le persone in un certo di un certo paese di uno stato per dirla correttamente c'era la necessità di sensibilizzare sull'importanza del voto e sensibilizzare anche le donne le donne che dovevano andare a votare e lì furono i grandi partiti poi di massa il partito comunista e la democrazia cristiana che pur nella loro divergenza forte delle ideologie che le contrapponevano in maniera anche molto vivace ecco ma collaborativa in una prospettiva di costruzione di una stato democratico fu molto interessante e anche molto dispiacevole studiare quel pezzo di costruzione di politiche che vennero messe in atto dai grandi partiti di massa per realizzare quel grande fenomeno di alfabetizzazione che portò poi a una grande presenza delle donne anche nelle prime elezioni del 46 anche che andarono proprio a votare e non solo nel nord Italia anche nel sud Italia anche nelle isole noi abbiamo due donne del 46 elette per esempio in Sardegna dunque fu un'Italia meno divisa tra nord e sud come poi siamo sempre stati abituati a vederla è un'Italia che insieme aveva l'obiettivo di diventare stato diventare uno stato democratico e di archiviare tutta quella fase di grande sofferenza di grande dolore e di divisioni che avevano caratterizzato gli anni precedenti Aspetta, vuoi cominciare tu? Sì, a me diciamo una prima domanda leggendo il libro mi è venuto in mente un riferimento e alla fine della seconda guerra mondiale in Giornania c'è il mito delle donne delle macerie queste donne che poi sono state anche forse mitizzate molto di più rispetto all'apporto che effettivamente hanno dato la ricostruzione della città tedesca e questa cosa che lei ha detto adesso mi ha colpito moltissimo cioè il fatto che è una storia non raccontata su cui in realtà si trova anche poco invece del ruolo che le donne hanno avuto in Italia nella ricostruzione del paese cioè se da un lato in Germania sono mitizzate addirittura nel 2014 si è scritto un libro in cui con dati scientifici alla mano si dimostra quanto queste figure siano state esagerate rispetto all'apporto reale che hanno dato alla ricostruzione del paese cioè proprio fisico perché ricostruivano praticamente ovviamente si mettevano lì e creavano tipo dei ponti e si passavano i materiali da costruzione per ricostruire la città in Italia invece è più difficile il ruolo più importante rivestito da questi amministratrici che venga riconosciuto che venga raccontato cioè diventa una storia che passa quasi in sordina secondo lei è una questione di cultura cioè perché questa differenza tra Italia e Germania in fondo sempre di ricostruzione dopo la seconda guerra mondiale si sta parlando La domanda è molto interessante forse una storica saprebbe rispondere meglio di una giurista però certamente il dato che lei evidenziava sulla mancanza anche di documentazione questo l'abbiamo proprio verificato nella ricerca un po' per le difficoltà di accedere alle biblioteche ovviamente nel periodo di Covid ma in generale non tranne alcune documentazioni alcune qualche documentazione all'archivio storico e al ministero dell'interno ma comunque sono sempre state prese in archivio soprattutto da Michela però in generale quello che lei dice non c'è una documentazione e questo fa parte anche un po' della condizione in cui le amministrazioni le amministrazioni locali che erano tutte ovviamente in costruzione anche se noi abbiamo una tradizione di essere appunto un paese appunto dei comuni dove comunque il localismo è sempre stato predominante rispetto al tema adesso in pandemia lo vediamo quanto conflitto esista tra lo Stato e le regioni ancora al di là della riforma del titolo quinto della Costituzione su cui si potrebbe aprire un capitolo a parte però in generale questa sensazione e questa cultura del localismo nel nostro paese è molto più forte rispetto appunto anche a altri paesi penso alla Germania che ha citato lei penso anche alla Francia in Inghilterra dove c'è invece un'idea un po' più accentrata non un po' molto più accentrata rispetto a noi sul ruolo delle donne e questo lo dimostrano gli indicatori poi su tutti i fronti un arretramento culturale molto forte rispetto ad altri paesi sul riconoscimento proprio del ruolo della donna nel nostro paese la donna viene sempre considerata e sempre stata considerata come adibita a dei ruoli più appunto domestici più privati più dentro dei nuclei ristretti mentre invece altrove non è un difese delle personalità femminili nei ruoli apicali di governo anche oggi quindi evidentemente c'è ancora una difficoltà una grande incapacità del nostro paese a riconoscere un ruolo pubblico alle donne e quindi di scrivere proprio questa storia la cosa che mi sorprende è come mai nessuna storica abbia sentito l'urgenza mentre di scrivere di pensare a questa importanza anche perché la storia delle amministratrici è una storia che di politiche di azioni che incidono pesantemente nel quotidiano e nella vita delle persone noi lo vediamo anche tutti i giorni e anche sul tema per esempio della scuola oggi quanto anche questi movimenti sulla riapertura delle scuole io attualizzo anche molta la nostra conversazione per non trasferirla solo nel passato ma certamente ci sono delle ordinanze comunali che chiudono decidono di chiudere le scuole per ragioni di emergenza e quanto importanti siano le politiche locali sulla qualità del nostro vivere quotidiano e questo effettivamente era una diciamo un'assenza quasi imperdonabile benedetta sono d'accordo con con lei rispetto al ruolo importante che le donne ebbero e anche forse a una concezione delle donne italiane stesse senza voler sempre essere trovare un colpevole fuori di noi ma forse anche nella nostra modalità di percepirci dentro una società dove anche noi stesse dobbiamo darci il ruolo che effettivamente svolgiamo quindi vedo due modalità che non hanno forse funzionato non hanno carburato abbastanza quindi dalla parte il cotè maschile che comunque tende a preservare il proprio ruolo riconoscerlo e anche diciamo sovrastimarlo nel nostro paese rispetto ad altri paesi dall'altra invece questa timidezza se vogliamo del mondo femminile che invece non ha avuto non ha sentito l'urgenza e la necessità di documentare le azioni che venivano svolte per esempio le donne del 46 non si limitarono solo a svolgere delle azioni su diciamo su tematiche considerate prettamente femminili quindi non si occuparono solo del tema della dei servizi per le donne o per le famiglie no lavorarono moltissimo anche sul piano urbanistico per esempio quindi questo aveva già come dire messo le radici su quella che poi la tendenza oggi della commissione europea su questo piano il grande piano di ricostruzione dei paesi europei di una trasversalità dei temi che riguardano appunto le donne e le pari opportunità tanto da non costituire un capitolo a sé ma di permeare per la loro importanza tutti i vari capitoli di intervento dall'urbanistica ai servizi dal tema del lavoro e il tema dell'ambiente dal tema della della giustizia del diritto per parlare di qualcosa che io pratico ogni giorno appunto tutti i temi della del nuovo sviluppo della della società certo è che la presenza delle donne e qui è un dato su cui bisogna riflettere la presenza delle donne ovviamente non in maniera solo esclusiva ma in presenza con gli uomini quando insomma l'ambiente e la compagine amministrativa si compone di donne e di uomini la qualità dell'azione che quella quell'ente quell'istituzione riesce a esprimere è sicuramente qualitativamente superiore senti io gli volevo fare questa in fondo riprendere il discorso che state facendo voi due perché veramente è un po' una cosa che ti colpisce leggendo anche il libro è questo cioè ci sembra di vedere un protagonismo delle donne anche nella politica degli anni scorsi andando anche molto indietro e poi mentre da una parte nella società c'è stato un indubbio progresso sui diritti civili sulle condizioni della donna sul riconoscimento di cose importanti l'aborto il divorzio via discorrendo però invece leggendo nell'ultima soprattutto tornata elettorale le donne che si sono candidate sono pochissime sembra quasi un flusso che va in una direzione e questo che va nel senso inverso te ne sei data una spiegazione oltre alle cose che in qualche modo diciamo sempre l'impegno familiare i problemi però non c'è qualcosa di più profondo di questo distacco delle donne che è in controsenso rispetto ai progressi fatti che risposta ti sai dare hai toccato un punto un punto essenziale al quale aggiungo il fatto che le compagini politiche le quali tradizionalmente nella storia repubblicana si sono occupati hanno dato e hanno diciamo riconosciuto il ruolo delle donne tradizionalmente quindi penso a quello che oggi chiamiamo centrosinistra che è una volta così invece oggi proprio quella compagine politica riesce a esprimere meno donne rispetto a quell'altra parte politica che invece tradizionalmente sembrava disinteressato al tema della parità e quindi della presenza delle donne quindi non solo c'è stata una diminuzione delle donne in generale ma c'è stato anche diciamo uno spostamento dell'importanza del tema da chi diciamo noi nella nostra mente ancora oggi immaginiamo se ne debba occupare mentre invece se pensiamo oggi l'unica donna che ha un ruolo di diciamo capo politica brutto termine ma diciamo di 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 leader ecco un altro termine che noi mutiamo così da una cultura che comunque in qualche modo non ci appartiene ma comunque lei è giorgia meloni che insomma tutt'altro tutt'altro che appartenenti a quella al mondo del centro-sinistra se noi guardiamo le regioni oggi da chi sono governate le regioni governate dal centro-sinistra sono governate tutte da uomini idem le città le grandi città ecco quindi questo diciamo è un dato su cui noi abbiamo riflettuto moltissimo e stiamo riflettendo molto che cosa è successo che cosa è successo dentro quel mondo quel mondo lì è successo sono successi tanti rivolgimenti intanto questa venir meno della dell'importanza dei partiti no i partiti che avevano comunque un ruolo di intermediazione tra l'alto e il basso e che comunque in qualche maniera si facevano garanti di una presenza delle donne dove venivano riconosciuti anche sia nel partito comunista che nel partito che nella democrazia cristiana poi nel partito socialista anche ci sono state forse un po' meno partito socialista ma delle donne molto importanti Tina Anselmi Nilde Jotti Rosa Russo Iervolino fu poi la prima ministra dell'interno donna insomma anche la prima sindaca di Napoli persone donne veramente che avevano un ruolo non di figurina ma proprio un ruolo assolutamente centrale e questo dissolvimento della presenza dei partiti ha generato ha sostituito diciamo la dinamica di rappresentanza per cui vengono comunque individuati dei soggetti che hanno più tra virgolette un potere prima di diventare sindaci che possano essere in qualche maniera o amministratori o nei ruoli apicali che hanno già un ruolo loro e siccome nel nostro paese le donne lavorano meno degli uomini non rivestono comunque dei ruoli apicali è più difficile trovare delle donne che possano poi essere spese nel mondo politico perché il punto di partenza delle donne è già diciamo più compromesso rispetto a quella degli uomini pensiamo anche a dei sindaci che so che vengono anche dalla società civile dal civile cosiddetta civile del mondo del management delle professioni dove il ruolo dell'uomo insomma è certamente più presente rispetto a quello della donna è più importante quanti presidenti di grandi imprese ci sono amministratori delegati sono quasi tutti uomini ecco tutto questo ha generato ovviamente uno spostamento dell'asse di selezione soprattutto dei criteri di selezione in assenza di partiti che mitigassero questo rapporto di forza ovviamente si siano sbilanciati tutti a favore dei uomini chiaramente Benedetta facciamo un ping pong bene io faccio la terza domanda in realtà perché mi collego un po' ai nomi che sono stati fatti ad esempio anche alle vicende che hanno visto in qualche modo rivestite sì anche donne come Giorgia Neloni e mi viene in mente nel libro appunto si spiega come queste donne in seguito diciamo allo svolgimento della loro attività politica vengano controllate schedate e attenzionate nonostante questo ci sono donne che comunque continuano adottare a me ha colpito molto la vicenda di Ana Natali e della sua storia diciamo della sua relazione con un uomo sposato quindi le donne oggi stanno guadagnando il diritto a far parte della vita pubblica di un paese ma il diritto invece ad avere una vita privata delle donne a che punto è come working in progress è una bellissima domanda benedetta e diciamo le due cose nel mondo politico si sono sempre un po' mescolate una volta si diceva il personale è politico no? quindi la vita la vita privata per chi fa azione politica e per chi esercita un ruolo non esiste più anche la normativa anche le norme sulla tutela della propria privacy quando si è un personaggio pubblico sono molto più mitigate rispetto a quelle di una persona che invece non ha questo ruolo pubblico diciamo tu hai citato appunto il caso della Natali che aveva appunto era stata schedata controllata fino al 1957 quindi fino a poco tempo fa per verificare se il suo comportamento fosse in qualche maniera sovversivo rispetto a un ordine costituito ma certamente sfiori un tema e ci entri anche dentro su quanto venga perdonato a una donna nella vita privata quando entra nella vita pubblica e quante che prezzi le donne debbano pagare per diciamo per invadere se mi permettete in questo termine un ambito che è stato prettamente nel corso degli anni riservato solo agli uomini il prezzo è altissimo perché noi appunto vediamo che diciamo ci sono state delle donne che hanno pagato dei prezzi altissimi rispetto alle scelte personali donne che sono state radiate anche dai partiti donne che sono state ehm hanno dovuto rinunciare i costituenti che rinunciare loro ritire comunque alla controparte di poter affermare in maniera indiscussa la propria supremazia se noi guardiamo la costituzione oggi diciamo che le norme che riguardano il rapporto pubblico privato della vita delle donne è ancora è ancora al limite penso all'articolo 37 della costituzione che ci dà una lettura ancora ancorata al ruolo della donna dentro la famiglia l'articolo 37 consenta alle donne di poter accedere ai posti di lavoro ma si ma si dà sempre un si fa sempre un riferimento al ruolo che la donna ha dentro la famiglia quindi ti consentiamo di entrare nel mondo del lavoro senza che questo comprometta tuttavia il tuo ruolo dentro la famiglia ecco tutto questo diciamo fa parte di un'evoluzione che ancora non si è completamente compiuta guardiamo i dati della pandemia oggi vediamo che sono le donne che hanno perduto il lavoro sono sicuramente in percentuale superiore rispetto agli uomini e anche le donne che si dedicano alle azioni alle attività di cura sono sicuramente superiori incredibilmente infinitamente superiori rispetto a quella degli uomini quindi sulla carta posso dire che noi abbiamo raggiunto molti abbiamo fatto molti passi avanti ed obiettivamente molti ambiti ci sono io quando vado in tribunale vedo prevalentemente delle colleghe donne delle magistrate donne insomma cosa che nel 63 non era assolutamente possibile neanche le donne di entrare in magistratura quindi c'è stata un'evoluzione importante ma le evoluzioni frutto di una società costruita dagli uomini e per gli uomini richiedono una grande forza da parte delle donne per entrare in questo mondo è una buona volontà da parte di uomini evoluti dico io che accettino questa presenza femminile che non la considerino una minaccia e che soprattutto si valutino le persone sulla base delle loro capacità e quindi ecco perché il tema delle pari opportunità è così importante perché diciamo sgombra dal campo ogni pregiudizio in questo caso sì che riguardi la persona le persone devono essere valutate sulla base di quello che sanno fare indipendentemente dalla loro se siano uomini o se siano donne se siano bianche se siano neri se siano di qualunque altra società o di provenienza ecco devono avere le stesse opportunità io a volte ho il timore che tutto questo parlare di quaterosa non venga più percetito come un diritto che le donne si sono guadagnate a fare un certo lavoro ma quasi un dovere di dare un lavoro a una donna in quanto donna ho paura che poi tutto questo alla fine diventi solo una cosa che si è fatta perché era dovuta ma era dovuta in quanto donna ad una persona in quanto donna in realtà secondo lei c'è questo rischio cioè lei anche intravede questo rischio oppure è giusto che si parli appunto della questione della rappresentanza delle donne oggi cioè che una certa quota parte di vita pubblica sia data completamente alle donne in quanto donne scusa io ci aggancio una diciamo su internet sul sito Antonio Bottoni ha fatto questa domanda la aggancio sono sembrati ma non c'è qualche responsabilità nel voto delle elettrici per questa situazione ma sono stati fatti vari tentativi di partiti delle donne non hanno mai funzionato sì le donne nelle scorse tornate elettorali hanno votato più non hanno sicuramente votato altre donne e questo ritorna sul tema che poneva Benedetta perché il tema delle cose dette quote rosa poi sono anche brutto il termine diciamo è superato non è più non è diciamo non ci sta stretto anche molto alle donne così come viene formulato tuttavia ha una sua diciamo forza in quanto ciò che non viene diciamo un comportamento che non viene spontaneo deve essere in qualche maniera come dire sollecitato e allora il senso delle quote di genere diciamo chiamiamole avviciniamoci un po' più all'attualità probabilmente anzi sicuramente ancora necessita di una sua presenza io quando parlo con le giovani generazioni soprattutto le ragazze ma anche i ragazzi e fino a una certa età della propria vita proprio a loro viene l'orticaria quando sentono che nel paese esiste questa cosa perché fino effettivamente fino a un certo punto della vita non si ha la percezione oggi è molto diverso diciamoci la verità se guardiamo i ragazzi le ragazze è proprio un mondo completamente inimmaginabile fino a qualche tempo fa quindi sicuramente questi giovani e queste giovani avranno un approccio molto diverso nelle loro relazioni reciproche anche se il tema della violenza è ancora fortissimo contro le donne però diciamo fino a un certo punto dell'età non si ha la percezione di vivere in una società dove gli uomini hanno più opportunità rispetto alle donne poi quando si incomincia a lavorare e si incominciano a vedere le prime differenze perché si vede che nei ruoli apicali ci sono solo gli uomini che diciamo il tempo dell'attività lavorativa dell'uomo è più dilatato rispetto a quello della donna perché magari poi la donna comincia a occuparsi delle faccende di casa se non ha un'altra persona che lo faccia ovviamente oppure si deve occupare dei genitori che sono anziani oppure quando arriveranno i figli poi ecco lì cade completamente qualunque convinzione che siamo assolutamente posti sullo stesso piano uomini e donne sotto il profilo lavorativo allora sì io penso che ancora oggi purtroppo con amarezza lo dico sia necessario avere questo aiuto legislativo e normativo che permetta un'evoluzione poi culturale della società che naturalmente non verrebbe come ci ricordiamo il tema delle cinture di sicurezza faccio sempre a volte faccio questo esempio perché fino a che non è la cintura di sicurezza oggi ce la mettiamo perché siamo assolutamente convinti che ci ci salvi la vita no ma prima c'è stata una legge che lo io vengo diciamo da una generazione intermedia io quando ero piccola non andavamo non c'erano le cinture di sicurezza non c'erano i seggiolini non c'era niente adesso nessuno si sognerebbe di entrare nessuno diciamo quasi nessuno si sognerebbe di entrare in macchina e non mettersi la cintura ecco però ci è voluta una legge per arrivare a tanto pur salvando la nostra vita cioè una legge dello Stato che ti dice cittadino devi metterti la cintura perché così ti salvi la vita ma il cittadino da solo non l'avrebbe neanche mai fatto da solo ecco quindi se queste quote questa legge sulle quote serve a quello dico sì se ancora assolutamente necessaria perché obiettivamente l'evoluzione non sia ancora compiuta in questo senso senti secondo te proprio adesso parlando alla giurista noi siamo un paese pieno di leggi di norme troppe che spesso ci compiono la vita però rispetto proprio alla questione di cui poi tu sei appunto questa delle pari opportunità secondo te occorrerebbe qualche ulteriore intervento sul piano legislativo cosa? Ma io sono d'accordo con te nel senso che c'è una tendenza nel nostro paese a a non ricercare dentro l'ordinamento e quando parlo di ordinamento in generale ciò che già è stato normato perché per esempio mi fa tanto ridere quando le donne dicono serve una legge sulla parità salariale ma noi ce l'abbiamo in costituzione non è che serva una legge che ancora lo affermi perché le leggi che cosa fanno? Le leggi sancescono un principio ma in quanto tale il principio non è che si autoapplichi poi ci vuole la parte applicativa quindi abbiamo tantissime leggi che però non hanno avuto poi la parte attuativa e quindi troppe leggi forse bisognerebbe invece fare un lavoro più che aggiungere nuove norme ma razionalizzare questo sistema di sovrabbondanza legislativa e normativa che rende anche molto diciamo difficile l'azione che anche noi avvocati facciamo per esempio che i magistrati fanno nella difesa anche nell'applicazione di diritti che anche i parlamentari i consiglieri regionali chi ha adibito comunali poi ovviamente anche loro consiglieri consigliere anche ovviamente al maschile e al femminile perché c'è una giungla di norme che rende difficile la sua conoscenza proprio per non parlare poi del cittadino quante volte il cittadino anche per cose semplici e banali si deve rivolgere a un professionista o una professionista per attuare i propri diritti e perché se non lo fa magari viene multato o multata perché non conosceva una norma che pure c'era e quindi che secondo l'ordinamento doveva conoscere ma che è impossibile da scorgere in questo grande mare magno un modello sistema normativo e legislativo quindi io non sono assolutamente per una nuova nuove norme che ma sono per una razionalizzazione del sistema bisogna mettersi lì fare una selezione nei vari ambiti nell'ambito del lavoro nell'ambito della società dei servizi sociali per esempio perché sono stati smantellati i consultori pubblici perché quelli erano dei centri importanti di prima diciamo di prossimità con i vari territori perché sono stati adesso noi pensiamo anche alla sanità di prossimità ma più prossimo dei consultori che cos'erano e quanto sarebbe importante per le ragazze i ragazzi gli adolescenti oggi che hanno grossi problemi anche e che non possono ovviamente a quell'età parlare con i genitori perché giustamente non è che non possano non vogliono parlare con i genitori perché c'è una c'è un gap e c'è anche una diffidenza una vergogna non è quello diciamo il rapporto il luogo giusto dove poter a volte risolvere i propri dubbi ma se ci fossero sul territorio per esempio di nuovo quei consultori non fatti di medici di serie B ma fatti di medici di serie A psicologi avvocati professionisti di livello medici dove comunque il tema viene affrontato a 360 gradi dove una donna un uomo un ragazzo una ragazza possano rivolgersi per tutta la problematica che riguarda il proprio stare al mondo e le proprie relazioni affettive il tema della sessualità su cui c'è un grandissimo enorme gigantesco tabù anche nel nostro paese soprattutto sulla parte femminile quanto sarebbero importanti dei posti per migliorare la vita delle persone quella la norma c'è non c'è bisogno di cercare altre cose c'è solamente bisogno di buona grande buona volontà di capacità di amare il ruolo che uno svolge e di considerarlo come diciamo una missione fatta per gli altri poi certo con la realizzazione personale ma è un mezzo non è un fine il ruolo che uno deve avere un mezzo per tutelare e salvaguardare gli interessi e i diritti degli altri dei terzi dei propri cittadini e delle proprie cittadine cosa che invece mi pare che ultimamente negli ultimi anni sia un po' sfuggito come dire ai nostri amministratori alle nostre amministratrici e questo è un problema è un problema gigantesco perché si ripercuote poi sul tipo di azione che viene realizzata e che è tanto lontana dalla società perché se io non mi occupo si dice tanto la politica è lontana dalla società ma per forza se tu o i cittadini anzi peggio ancora si dice i cittadini si sono allontanati dalla politica no è la politica che si è allontanata dai cittadini perché non li ascolta un eco voi per esempio svolgete un ruolo che una volta svolgevano i partiti poi c'erano anche i corpi intermedi l'associazionismo è sempre stato fiorente ma in questo momento è l'unica cosa che regge nel nostro paese che ha retto anche il paese durante il covid ecco questo è un problema l'ultima domanda è più una una riflessione in questo libro si parla del ruolo delle donne nella ricostruzione di un paese distrutto dalla guerra e di come queste donne straghezzano anche il paese in un punto di passaggio fuori da una da una situazione di difficoltà in realtà leggendo invece i dati della situazione di oggi e del ruolo della donna nella situazione di oggi penso per esempio al rapporto che è stato pubblicato dall'istax sul rapporto sul mercato del lavoro del 2020 o anche i rapporti delle violenze dell'aumento che riportano l'aumento delle violenze domestiche in questa fase di covid non esce diciamo un futuro roseo per le donne né dal punto di vista della vita privata né dal punto di vista della vita pubblica adesso magari abbinare questi due dati così negativi è anche un po' superficiale però dà anche il senso di una situazione io penso per esempio alle donne che hanno perso il lavoro nel 2020 è una percentuale doppia rispetto a quella degli uomini le donne sono comunque una categoria che hanno registrato il minor numero di reingressi nel lavoro le lavoratrici diciamo del 2020 che hanno trovato lavoro l'hanno trovato con maggiore difficoltà rispetto agli uomini quindi una domanda un po' mi sorge spontanea cioè adesso bisogna traghettare il paese verso di nuovo una ricostruzione spesso si ovviamente questa pandemia non è come la guerra chiaramente sono cose molto differenti sono state spesso paragonate ma sono cose differenti però si deve ricostruire un paese questo sì perché esistono tutta una serie di problemi strutturali che l'Italia si porta avanti da molto tempo che questa pandemia altro non ha fatto che sottolineare ed evidenziare quale sarà un po' una domanda un po' di futuro quale sarà il ruolo delle donne nel futuro nella ricostruzione del paese secondo lei secondo me diciamo nel nostro paese ancora siamo siamo sul il timone è ancora prettamente in mano agli uomini è fortissima questa presenza massiccia degli uomini nei ruoli nei momenti di diciamo nei luoghi di gestione del potere ecco se la vogliamo dire in maniera così cruda ma è molto così un po' perché le donne non sono avvezze ancora all'esercizio del potere quando si parla di potere tutti un po' si spaventano oddio io ho una trasmissione che si chiama potere e parità ho messo insieme questi due termini che va su l'Huffington Post perché mi piace un po' sfidare quest'idea della dell'imbarazzo che si crea rispetto al tema del potere il potere è ancora prettamente in mano agli uomini poi ovviamente il potere è esercitato in maniera positiva è chiaro che il potere finalizzato a se stesso non ci interessa è roba che non non è appassionante non è appassionante come invece appassionante la politica nel 46 e nel 40 diciamo durante la ricostruzione lei benedetta dice bene perché si capì l'importanza che i due ruoli dovevano avere anche se poi corri entro molto degli uomini e questo anche in Inghilterra nei paesi industrializzati poi corri entro degli uomini le donne sui posti di lavoro molte donne furono mandate a casa poi di nuovo a svolgere le loro funzioni domestiche quindi purtroppo è un tema che attraversa non solo il nostro paese mediterraneo ma anche le culture un po' del nord Europa in cui obiettivamente il ruolo della donna sembrerebbe sulla carta come gli Stati Uniti anche una società molto maschile ancora molto maschilista ancora su molte cose anche se abbiamo la prima vicepresidente donna però anche loro ci sono arrivati adesso la prima vicepresidente quindi di strada ce n'è molta molta da fare io non so ancora non so dire perché poi magari questi processi di integrazione uomini e donne hanno degli stop e dei stop and go non sono non hanno un'azione lineare molto dipende anche da da quello che le donne riescono anche a a capire come come importante cioè capire l'importanza di stare in quei posti ma non stare per stare mi rifaccio la tua domanda le quote cioè non è che noi vogliamo pensare a una società dove ci siano delle donne questo anche il tema sia risolto così no dove comunque la capacità decisionale venga e la diciamo il potere decisionale venga interpretato ed esercitato dagli uomini e delle donne in Italia siamo pronti a questo non mi pare non mi pare ancora non mi pare che ci sia questa questa volontà ancora adesso ci sono dei segnali in questo senso che che si stanno manifestando sono ancora troppo timidi secondo me e spesso le donne pensano che il potere quando hanno abbiamo un atteggiamento io no però mi ci metto anch'io rivendicativo nei confronti degli uomini come dateci questo dateci quello no nessuno ti dà niente anche le donne del 46 conquistarono con la forza non con la violenza ma con la forza le loro postazioni e le loro posizioni il potere non te lo cede nessuno neanche un uomo ad un altro uomo se per quello figuriamoci un uomo ad una donna quindi l'idea che ci sia questa gentile concessione delle cose è un'idea diciamo romantica ma purtroppo non che non non ha un fondamento su questa terra progressi ne abbiamo fatti perché non è neanche corretto dire che siamo tornati indietro non direi perché si vedono molti uomini che oggi esercitano lo loro penso dentro le famiglie anche il ruolo di padre no quando mai fino a qualche tempo fa un padre spingeva una carrozzina del figlio o portava il figlio a scuola o andarlo accompagnava le attività sportive ricreative ormai invece oggi non è così oggi molti molti uomini hanno rivendicano proprio il padre nel loro ruolo io sono un avvocato familiarista spesso appunto i litigi oltre che sulla parte economica ovviamente anche sulla gestione dei figli perché ancora alcune donne pensano che i figli siano solo della mamma mentre invece i padri vogliono diciamo nelle situazioni ideali quando non c'è un padre che si disinteressa completamente dei figli però anche i padri vogliono rivendicare il loro ruolo di padre quindi partecipare nella loro funzione educativa e genitoriale verso i figli quindi a mio avviso tanti passi in avanti sono stati fatti oggi le donne hanno molte 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 più opportunità rispetto a prima non ancora siamo troppo caricate il mondo femminile è troppo caricato di una diciamo funzione familiare che invece dovrebbe essere un po' più condivisa con con la parte maschile quindi questo si collega anche con il fatto che le donne guadagnano meno degli uomini quindi in un'economia familiare quando si tratta uno dei due deve stare a casa e sta a casa chi guadagna di meno chi guadagna di meno è la donna non è necessariamente un ragionamento che viene fatto a priori contro la donna ma è il risultato di una valutazione di uno stato di fatto e lo stato di fatto è che le donne sono più svantaggiate rispetto agli uomini quindi bisogna lavorare moltissimo per realizzare un paese di pari opportunità tra uomini e donne cosa che ancora non è non è fattibile questo si fa già da piccoli già a partire dalle scuole con l'abbattimento di alcuni stereotipi non dico di un'uguaglianza perché poi gli uomini e le donne sono diversi non è che noi possiamo nascondere questa diversità anzi è una ricchezza però insomma ragionare sul fatto che non puoi essere messo di fronte ad una scelta vita privata vita professionale se sei una donna mentre per l'uomo questa scelta questa diciamo questo big dilemma non si pone mai per le donne sì faccio un figlio non faccio un figlio quanto ciò incide sulla mia carriera questo le donne se lo pongono sempre quando lo faccio a 30 anni che ho iniziato diciamo a ingranare sotto il profilo lavorativo o lo faccio a 45 46 anni quando ho già consolidato e che diciamo non ho più il pericolo di di perdere il lavoro e beh per un conto fare un figlio a 45 47 anni meglio farlo che non farlo secondo me se uno deve scegliere per carità però c'è una differenza enorme rispetto a questa cosa soprattutto non è una scelta ecco questo è importante da dire finché le donne non potranno liberamente scegliere di essere quello che vogliono essere allora la società è una società diseguale e penso che noi dobbiamo convincere anche i nostri diciamo compagni uomini di compagni nel senso amici compagni con cui condividiamo il pane la vita la quotidianità i nostri mariti fidanzati quello che è amici che questa battaglia si fa insieme oggi e lì la vera rivoluzione e non in maniera oppositiva come come era necessario negli anni settanta dove bisognava completamente scardinare quel sistema oggi non è più così spero che non hai dato giudizi non avete dato giudizi politici però poi giudizi politici siete un po' troppo indulgenti però poi mi sono detto vabbè ma in fondo abbiamo visto che non sono tante almeno siano indulgenti senza dare giudizi diciamo su come hanno operato forse operavano pure con difficoltà quindi non ti faccio una domanda cattiva che è stata troppo indulgente soprattutto nei tempi recenti e invece se Benedetta è d'accordo concludendo così una domanda un po' così tu il digitale questa epoca nostra è digitale lo vedi come un fatto che ti aiuta la donna o non l'aiuterà beh potrebbe questo di qui allora sulla prima domanda sulla prima domanda provocazione dico che diciamo noi ci siamo un po' attenute a quello che anche nella difficoltà anche di reperire il materiale ci siamo un po' attenute anche a quella della ricostruzione della loro delle loro attività fatta anche dalle stesse sindache anche se non l'abbiamo interpellata e direttamente non sapevano neanche così e devo dire che con molta amarezza avrei voluto consegnare il libro alla sindaca della mia città di residenza cioè Roma e non mi è stato concesso quindi devo dire che è stato anche uno sgarbo se vogliamo da parte della ma infatti ne parlo esatto mi sono rimasta molto sorpresa da questa chiusura perché mentre la sindaca Pendino è stata venuta l'abbiamo l'abbiamo anche invitata ad una presentazione con la Polibortone quindi anche sono sindache che hanno una provenienza politica molto molto diversa devo dire che sono rimasta molto male siamo rimaste molto male del fatto che la sindaca Raggi non abbia sentito neanche la gentilezza di volerci ricevere quindi stavolta la cattiveria la dico io per la prima volta lo dico anche pubblicamente perché invece mi sembrava mi sembra quanto meno gentile garbato visto che c'è la sua scheda riceverci due minuti dire parlare di questa cosa come insomma si conviene tra persone che oltretutto siamo anche colleghe perché io sono avvocata e lei anche quindi diciamo che ci sono rimasta molto male per questo suo comportamento ma forse sta nelle cose invece questo mio giudizio politico personale invece sull'altra domanda che facevi molto interessante se io penso che la tecnologia possa comunque migliorare la società se ovviamente c'è un'educazione in questo senso discutevamo di questa cosa con una collega io sono stata eletta al consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma nel comitato pari opportunità ci sono vere e proprie lezioni con con la con il voto espresso nominativamente quindi ancora più difficile della politica nazionale quella politica politica vera con quella forense e discuteramo con una collega avvocata su questa per esempio nell'ambito del diritto delle udienze il fatto di utilizzare appunto il processo telematico e in questo senso abbiamo ritenuto che effettivamente la presenza della possibilità di utilizzare il processo telematico potesse anche essere utile invece per le donne e quindi forse la tecnologia in un certo senso può aiutare anche le professioniste a poter svolgere il loro il loro ruolo ecco la propria professione poi in generale si spera che insomma siano ci siano molte donne c'è adesso questo grande movimento delle donne stem di lavorare di spingere le donne ad andare anche in ambiti scientifici io vorrei solo che le donne fossero e anche gli uomini fossero anche retribuiti per il lavoro che fanno sia nell'ambito umanistico sia nell'ambito scientifico invece insomma la tendenza in questo momento è quella di spingere tutti verso le facoltà scientifiche non so giusto non giusto ma per me sarebbe impossibile fare una facoltà scientifica ne riconosco tutta l'importanza ma io sono un'umanista quindi anche se mi avessero pagato ricoperta d'oro non l'avrei potuta mai fare una facoltà scientifica quindi forse più che far questo sarebbe bene appunto ragionare sul riconoscimento del lavoro professionale che viene fatto e qui so che avete anche molti professioniste e molte professionisti perché in Italia il lavoro qualificato non è molto riconosciuto e questo è un problema che riguarda sia gli uomini che le donne benedetta 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 devi concludere te ringraziando come io tanto lo faccio ringrazio tantissimo grazie a voi questo colloquio se piacere devi concludere no no Claudio concludi tu perché se lo faccio io non ti va bene come lo faccio no benedetta concluda lei perché questa è l'affermazione del ruolo delle donne mi permetto di fare da arbitro allora grazie a tutti per averci seguito e sicuramente sono abbiamo toccato dei temi anche difficili oggi soprattutto sul ruolo della donna abbiamo cercato di spaziare anche un po' oltre quello che era il libro però era impossibile perché è un libro di grande attualità e che diciamo riflette bene poi una situazione della situazione dell'oggi nonostante sia un libro che racconta nelle prime dieci schede situazioni che riguardano il passato grazie a tutti grazie a presto grazie di nuovo grazie tantissimo grazie a tutti